Il matrimonio tra i due non dovette essere molto felice. Secondo la tradizione raccolta dal boccaccio e fatta propria, poi nell'800 da Vittorio in Briani, 53. Dante non scrisse infatti un solo verso alla moglie, mentre di Costei non ci sono pervenute notizie sull'effettiva presenza al fianco del marito durante l'esilio. Comunque sia. L'unione generò due figli e una figlia. Jacopo, Pietro, Antonia e un possibile quarto, Giovanni, 52, 54. Dei tre certi, Pietro fu giudice a Verona e l'unico che continuò la stirpe degli alighieri. In quanto Jacopo scelse di seguire la carriera ecclesiastica, mentre Antonia divenne monaca con il nome di sorella Beatrice, sembra nel convento delle Olivetane a Ravenna, 52. Impegni politici e militari magnifying glass icon mgx2.svg lo stesso argomento in dettaglio. Guelfi bianchi e neri e storia di Firenze e gli ordinamenti di giustizia. Giovanni Villani. Corso Donati fa liberare dei prigionieri. In cronaca, XIV secolo. Corso Donati, esponente di Punta dei Neri, fu acerrimo nemico di Dante. Il quale lancerà contro di lui violenti attacchi nei suoi scritti, 55. Poco dopo il matrimonio. Dante cominciò a partecipare come cavaliere ad alcune campagne militari che Firenze stava conducendo contro i suoi nemici esterni. Tra cui Arezzo. Battaglia di Campaldino dell'11 giugno 1289. E Pisa, presa di Caprona. 16 agosto 1289. 28. Successivamente, nel 1294. Avrebbe fatto parte della delegazione di cavalieri che scortò Carlo Martello D'Angio, figlio di Carlo II D'Angio, che nel frattempo si trovava a Firenze, 56. L'attività politica prese Dante a partire dai primi anni 1290, in un periodo quanto mai convulso per la Repubblica. Nel 1293 entrarono in vigore gli ordinamenti di giustizia di Giano della Bella. Che escludevano l'antica nobiltà dalla politica e permettevano al ceto borghese di ottenere ruoli nella Repubblica, purché iscritti a un'arte. Dante. In quanto nobile. Fu escluso dalla politica cittadina fino al 6 luglio del 1295. Quando furono promulgati i temperamenti, leggi che ridiedero diritto ai nobili di rivestire ruoli istituzionali. Purché si immatricolassero alle arti, 28. Dante, pertanto, si iscrisse all'arte dei medici e speciali, 57. L'esatta serie dei suoi incarichi politici non è conosciuta. Poiché i verbali delle assemblee sono andati perduti. Comunque, attraverso altre fonti, si è potuta ricostruire buona parte della sua attività. Fu nel Consiglio del Popolo dal novembre 1295 all'aprile 1296, 58, fu nel gruppo dei «Savi», che nel dicembre 1296 rinnovarono le norme per l'elezione dei priori. I massimi rappresentanti di ciascuna arte che avrebbero occupato, per un bimestre, il ruolo istituzionale più importante della Repubblica. Dal maggio al dicembre del 1296 fece parte del Consiglio dei 100, 58. Fu inviato talvolta nella veste di ambasciatore, come nel maggio del 1300 a San Gimignano, 59. Nel frattempo, all'interno del partito guelfo fiorentino si produsse una frattura gravissima tra il gruppo capeggiato dai donati, fautori di una politica conservatrice e aristocratica, guelfi neri. E quello invece fautore di una politica moderatamente popolare, guelfi bianchi, capeggiato dalla famiglia Cerchi, 60. La scissione, dovuta anche a motivi di carattere politico ed economico, i donati esponenti dell'antica nobiltà, erano stati surclassati in potenza dai cerchi, considerati dai primi dei parvenù, 60, generò una guerra intestina cui Dante non si sottrasse schierandosi. Moderatamente. Dalla parte dei guelfi bianchi, 58. Lo scontro con Bonifacio VIII, 1300, Arnolfo di Cambio, statua di Bonifacio VIII, 1298k, conservato presso il Museo dell'Opera del Duomo, Firenze nell'anno 1300. Dante fu eletto uno dei sette priori per il bimestre 15 giugno 15 agosto, 58, 61. Nonostante l'appartenenza al partito guelfo. Egli cercò sempre di osteggiare le ingerenze del suo acerrimo nemico Papa Bonifacio VIII, dal poeta intravisto come supremo emblema della decadenza morale della Chiesa. Con l'arrivo del cardinale Matteo d'Acqua Sparta, inviato dal pontefice in qualità di pacere, ma in realtà spedito per ridimensionare la potenza dei guelfi bianchi. In quel periodo in piena ascesa sui neri, 62, Dante riuscì ad ostacolare il suo operato. Sempre durante il suo priorato, Dante approvò il grave provvedimento con cui furono esiliati. Nel tentativo di riportare la pace all'interno dello Stato, otto esponenti dei guelfi neri e sette di quelli bianchi, compreso Guido Cavalcanti, 63, che di lì a poco morirà in Sarzana. Questo provvedimento ebbe serie ripercussioni sugli sviluppi degli eventi futuri. Non solo si rivelò una disposizione inutile, i guelfi neri temporeggiarono prima di partire per l'Umbria. Il posto destinato al loro confino, 64, ma fece rischiare un colpo di Stato da parte dei guelfi neri stessi, grazie al segreto supporto del cardinale d'Acqua Sparta, 64. Inoltre, il provvedimento attirò sui suoi fautori, incluso Dante stesso, sia l'odio della parte nera che la diffidenza degli «amici» bianchi, i primi, ovviamente, per la ferita inferta, i secondi. Per il colpo dato al loro partito da parte di un suo stesso membro. Nel frattempo, le relazioni tra Bonifacio e il governo dei bianchi peggiorarono ulteriormente a partire dal mese di settembre. Allorché i nuovi priori, succeduti al collegio di cui fece parte Dante, revocarono immediatamente il bando per i bianchi, 64. Mostrando la loro partigianeria e dando così al legato papale cardinale d'Acqua Sparta a modo di scagliare l'anatema su Firenze, 64. Con l'invio di Carlo di Valois a Firenze. Mandato dal papa come nuovo pacere, ma di fatto conquistatore, al posto del cardinale d'Acqua Sparta, la Repubblica spedì a Roma, nel tentativo di distogliere il papa dalle sue mire egemoniche. Un'ambasceria di cui faceva parte essenziale anche Dante. Accompagnato da Maso Minerbetti e da Corazza da Signa, 62. L'inizio dell'esilio. 1301-1304. Carlo di Valois e la caduta dei bianchi Tommaso da Modena, Benedetto XI, a Fresco, anni 50 del XIV secolo, Sala del Capitolo, Seminario di Treviso. Il beato papa Boccasini, trevigiano, nel suo breve pontificato cercò di riportare la pace all'interno di Firenze, inviando il cardinale Niccolò da Prato come pacere. È l'unico pontefice su cui Dante non proferì alcuna condanna. Ma neanche verso il quale manifestò pieno apprezzamento. Tanto da non comparire nella Commedia, 65. Dante si trovava quindi a Roma, 66. Sembra trattenuto oltre misura da Bonifacio VIII, quando Carlo di Valois, al primo subbuglio cittadino, prese pretesto per mettere a ferro e fuoco Firenze con un colpo di mano. Il 9 novembre 1301 i conquistatori imposero come podestà Cante Gabrielli da Gubbio, 67. Il quale apparteneva alla fazione dei Guelfi Neri della sua città Natia e quindi diede inizio a una politica di sistematica persecuzione degli esponenti politici di parte bianca ostili al Papa. Fatto che si risolse alla fine nella loro uccisione o nell'espulsione da Firenze. Con due condanne successive, quella del 27 gennaio e quella del 10 marzo 1302, 58. Che colpirono inoltre numerosi esponenti delle famiglie dei cerchi, il poeta fu condannato, in contumacia, al rogo e alla distruzione delle case. Da quel momento, Dante non rivide più la sua patria. Alighieri Dante è condannato per baratteria, frode, falsità, dolo, malizia, inique pratiche estortive, proventi illeciti, pederastia, e lo si condanna a 5.000 fiorini di multa. Interdizione perpetua dai pubblici uffici, esilio perpetuo, in contumacia, e se lo si prende, al rogo. Così che muoia. Libro del Chiodo Archivio di Stato di Firenze 10 marzo 1302, 68. I tentativi di rientro e la battaglia di lastra, 1304, dopo i falliti tentati colpi di mano del 1302, Dante, in qualità di capitano dell'esercito degli esuli, organizzò insieme a Scarpetta Ordelaffi, capo del partito Ghibellino e signore di Forlì, presso il quale Dante si era rifugiato, 69. Un nuovo tentativo di rientrare a Firenze. L'impresa fu però sfortunata. Il podestà di Firenze, Fulceri da Calboli, un altro forlivese, nemico degli Ordelaffi. Riuscì ad avere la meglio nella battaglia di Castel Pulciano. Fallita anche l'azione diplomatica, nell'estate del 1304, del cardinale Niccolò da Prato, 70. Legato pontificio di Papa Benedetto XI, sul quale Dante aveva riposto molte speranze. 71. Il 20 luglio dello stesso anno i Bianchi, riuniti alla Lastra, una località a pochi chilometri da Firenze. Decisero di intraprendere un nuovo attacco militare contro i Neri, 72. 82. Dante. Ritenendo corretto aspettare un momento politicamente più favorevole, si schierò contro l'ennesima lotta armata. Trovandosi in minoranza al punto che i più intransigenti formularono su di lui dei sospetti di tradimento, pertanto decise di non partecipare alla battaglia e di prendere le distanze dal gruppo. Come preventivato dallo stesso, la battaglia di Lastra fu un vero e proprio fallimento con la morte di 400 uomini fra Ghibellini e Bianchi, 72. Il messaggio profetico ci arriva da Cacciaguida. Di sua bestialità te il suo processo farà la prova. Sica te fia bello averti fatta parte per te stesso. Paradiso diciassettesimo, vivi. 67-69, la prima fase dell'esilio, 1304-1310. Tra Forlì e la Lunigiana dei Malaspina e il castello palazzo Vescovile di Castelnuovo dove Dante nel 1306 pacificò i rapporti tra i marchesi Malaspina e i Vescovi Conti di Luni Dante fu. Dopo la battaglia della Lastra, ospite di diverse corti e famiglie della Romagna, fra cui gli stessi Ordelaffi. Il soggiorno forlivese non durò a lungo. In quanto l'esule si spostò prima a Bologna, 1305, poi a Padova nel 1306 e infine nella Marca Trevigiana, 45, presso Gerardo III da Camino, 73. Da qui, Dante fu chiamato in Lunigiana da Moroello Malaspina, quello di Giovagallo, visto che più membri della famiglia portavano questo nome, 74. Col quale il poeta entrò forse in contatto grazie all'amico comune, il poeta Cino da Pistoia, 75. In Lunigiana, regione in cui giunse nella primavera del 1306. Dante ebbe l'occasione di negoziare la missione diplomatica per un'ipotesi di pace tra i Malaspina e il Vescovo Conte di Luni. Antonio Nuvolone da Camilla, 1297, 1307, 76. In qualità di procuratore plenipotenziario dei Malaspina, Dante riuscì a far firmare da ambo le parti la pace di Castelnuovo del 6 ottobre del 1306, 46, 76. Successo che gli fece guadagnare la stima e la gratitudine dei suoi protettori. L'ospitalità malaspiniana è celebrata nel canto ottavo del Purgatorio. Dove al termine del componimento Dante formula alla figura di Corrado Malaspina e il giovane l'elogio del casato, 77, e io vi giuro. Che vostra gente onrata. Sola va dritta e, l mal cammin di spregia. P.G. V.V. 127-132, nel 1307, 78, dopo aver lasciato la Lunigiana, Dante si trasferì nel Casentino. Dove fu ospite dei Conti Guidi, Conti di Battifolle e Signori di Poppi, presso i quali iniziò a stendere la Cantica dell'Inferno, 46. La discesa di Arrigo VII. 1310-1313, monumento a Dante Alighieri a Villafranca in Lunigiana presso la tomba Sacello dei Malaspina François Savier Fabre, ritratto di Ugo Foscolo, Pittura, 1813. Biblioteca nazionale centrale di Firenze Il Ghibellin Fuggiasco il soggiorno nel Casentino durò pochissimo tempo. Tra il 1308 e il 1310 si può infatti ipotizzare che il poeta risiedesse prima a Lucca e poi a Parigi. Anche se non è possibile valutare con certezza il soggiorno transalpino come già precedentemente esposto. Dante, molto più probabilmente, si trovava a Forlì nel 1310-79, dove ebbe la notizia. Nel mese di ottobre, 46, della discesa in Italia del nuovo imperatore Arrigo VII. Dante guardò a quella spedizione con grande speranza. In quanto vi intravedeva non soltanto la fine dell'anarchia politica italiana, 80, ma anche la concreta possibilità di rientrare finalmente a Firenze, 46. Infatti l'imperatore fu salutato dai ghibellini italiani e dai fuoriusciti politici guelfi. Connubio che spinse il poeta ad avvicinarsi alla fazione imperiale italiana, capeggiata dagli scaligeri di Verona, 81. Dante. Che tra il 1308 e il 1311 stava scrivendo il De Monarchia. Manifestò le sue aperte simpatie imperiali, scagliando una violenta lettera contro i fiorentini il 31 marzo del 1311, 46, e giungendo. Sulla base di quanto affermato nell'epistola indirizzata ad Arrigo VII, a incontrare l'imperatore stesso in un colloquio privato, 82. Non sorprende, pertanto, che Ugo Foscolo giungerà a definire Dante come un ghibellino. E tu prima, Firenze, udivi il carme che allegrò l'ira al ghibellin fuggiasco. Ugo foscolo, dei sepolcri, vv. 173-174, il sogno dantesco di una renovazio imperii si infrangerà il 24 agosto del 1313, quando l'imperatore venne a mancare, improvvisamente, a Buonconvento, 83. Se già la morte violenta di Corso Donati, avvenuta il 6 ottobre del 1308 per mano di Rossellino della Tosa, l'esponente più intransigente dei Guelfi Neri, 78. Aveva fatto crollare le speranze di Dante, la morte dell'imperatore diede un colpo mortale ai tentativi del poeta di rientrare definitivamente a Firenze, 78. Gli ultimi anni can grande della scala. In un ritratto immaginario del XVII secolo. Abilissimo politico e grande condottiero, can grande fu mecenate della cultura e dei letterati in particolare, stringendo amicizia con Dante. Il soggiorno veronese. 1313, 1318, Magnifying Glass Icon MGX2.S VG lo stesso argomento in dettaglio, della scala. All'indomani della morte improvvisa dell'imperatore. Dante accolse l'invito di can grande della scala A. Grazie a tutti.